bello a tutti i ragazzi siamo quelli della porta accanto e oggi siamo su l'intervistare no ok la casa mia casa mia e non riesco a riconoscere e ci siamo picchiando ma il mio è tristema e tu è triste perché l'hai messo triste scusa la personalizzazione del personaggio no che vai non ho fatto apposta io sono come ho fatto a metodismo ci cerchiamo qualcosa di carino no 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 mi vuoi spiegare che mi è triste forse perchè siamo troppo ma questa è un'adatta luga ninja no non è un'adatta luga ninja quella ninja è basso dai sei un'adatta luga ninja eccolo il mio è proprio lui è jack sparrow che vuoi jack sparrow usa 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 dai mi metto questo qua che è semplice ci vado con quell'anni sessanta dai a jack io ho un pull in test aspetta fammi ballare la disco no tu hai un po' io ho pull in test fammi ballare il disco stu e io nel fa tempo ho ballato il ballo uuuu 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 ok è fatto ok dunque cominciamo con la storia storia che ho completata al 100% ops comunque noi non sappiamo nulla la prima volta che troviamo a quello cominciamo dal nascondiglio di da vinci ok si si dai il video introduttivo non lo possiamo far vedere sempre per i stessi motivi dai dai gioca gioca la roba della regola vabbè veramente c'è un nemico che si chiama negativitron che ha un aspirapolvere gigante e' un aspirapolvere gigante disco su questo non interessa si che mi interessa discusso 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 e casa continua tutto ok al bordo se l'affanculo e ahahah ehm schiaffo chi è che è stato s'incritto io ho deciso che siete mesi arrabbiati eeeh tira fuori dalla macchellata ma c'è un modo per correre no tu stai correndo ora in teoria dove m'attaccanate si vola in pratica non lo attacchiamo in pratica allora usamo una tecnica ok montatela fuori montate questo possiamo monta sopra pro 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 perchè avrino delle 1 dai andiamo andiamo guarda che da vinci questa è da vinci che è quella è da vinci questo qui si chiudi il pop it vabbè vabbè io sono un po' no in cosa vuoi devi andare avanti si dice no il disco su rimasto dietro il disco su rimasto dietro io non riesco a muovere il disco su il disco su prende tutto eh sì perchè io sono un po' dai ieri 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 devi mettere i giuri dai ieri non interessa perchè non rimarrà la vita ma non dire tutto quindi non ti arrabbiare un po' non è quasi ma non è un po' perché sapevo questa cosa e nemmeno colpa usa il trastorno il trastorno e metti quel coso in cui è un'altra sinistra per il primo a tutti i modi e tieni premuto poi ti devi prendere il trastorno azione ma è un'altra cosa per il caso di un'altra cosa per se la condizione per il mondo non so che devi te la piegatora premi cerchio ok quello sotto ok ti esprimo dove dai la voce voi dai se te l'ha sportato oh ahahah beh dai cerchi tutti i punti di studio sono piccoli capolavori non lo lascia in giro il po' lo Gesuano un po' il genio di che appiccicati si non è un pisello una camera comunque questa è materia di aria questa è assicc ahahah 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 c'è un topo perché appiccicati si si sta trompando il formaggio ahahah 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 appollo non piace ahahah ahahah aprisco ha fatto aprisco un assassino sai cosa ma chi è il capitale io ammazzo le persone è un problema è molto urbinaria oh sto vivo oh oh c'è oh c'è oh sei mio ma cacciami oh no ma c'è lo fanno sentare beh no casco su perchè non prendi quella città ahahah guarda che fa aria riesco su ho fatto l'acrobata no l'ho lisciato oddio guarda ce la faremo oddio ho preso io ahahah esatto i primi due l'ho preso io ho preso io dobbiamo andare però ahahah guarda i capelli tuoi aspettate no regalo non riesco a più a scendere regalo mori dai mi spiace no 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 fermi fermi sto rimando sto arrivando ok chi è il controller tuoi? aspetta cosa sono più vero sono io non sono io perchè chi è? no eh 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 posso andare io ma vedete una cosa divertente oh oh no ma forno vai avanti vai avanti fanno morire fanno morire ma vedete ok che vuole c'è razione che non c'è le camera delle station 9 no dovremmo avere la carta delle camera delle station 9 eh andiamo avanti andiamo avanti vai avanti non ci interessa povero c'è è un po' handicap ma non ci stanno solo topi che stuporano formaggio ma non c'è no c'è no ma che stanno i punti si no ma non ti interessa niente sei a vincere perchè mi vincendo disco su perchè mi vincendo sta vincendo disco su si guarda guarda che colpo supremo disco su vincere vieni qui vieni qui fammi ballare no no prendi la cazzo come facciamo aspetta con la peccatura ecco allora stiamo stiamo al secondo livello che a ferrendondola a ferrendondola a ferrendondola ho detto tutto non ha detto niente c'è la mano tipo quella dei visti in okia quando si accendono ah è bello dove c'è Dio e lì c'è Gesù vedi che si no c'è Dio e Gesù c'è come il quadro e magari una bella foto zitti zitti che da vinci parla zio da vinci che da vinci di ha ma non ce ne frega un cazzo ma non ci ne frega un cazzo ma come vale ma non non forse ti serve il quadradone qua gigante no che ho regalo ti sei ammazzato io no no faticso sumu e come la città ok lei che magari come ti chiamati scosto di toglie testo sui amm c'è un po' c'è stato io dietro no dobbiamo non c'è poi c'è un io penso che così mette le pietre trasportava sopra bolliera disco 2. pericolari e quella l'attività se no no ok non è successo niente no no corri corri sali qua sali qua muori basta sali là sopra sali sali e premia r1 aspettate non premere r1 no premia r1 che dobbiamo la rega mi hanno messo sotto mi spiace non un po' non sembra afferra cosa ci siamo afferrati da soli a voi e come si fa come si fa r1 bambam bambam non c'è ne frega niente di te da liggi r1 ho fatto il appallito e io ora mi faccio morire non ho rialito non ho mangi non ho un po' perchè è un wonder prince e del grande traduttore allora siamo alla seconda parte del livello aspetta no però noi siamo ancora potete fa ammazzato domani ma che no no dai no che posso ammazzarti da vincere si siamo fatti ammazzarti si no ma perchè io sono un po' lo cattivo ovviamente eh dirighi oh ma che dirighi quando è che qualcuno si veste da poco ecculi ecculi no si c'è un libro che sta è il momento che tutti aspettavano la professione era vera il santo grave il santo il santo rampino pensavo fosse una falce mi sono attaccato rega e tu guarda guarda giacchietto che devo fare che non riesce ma che fa ma perchè stai camminando nell'aria non stai camminando nell'aria sei attaccato con rampino no dobbiamo facerlo quasi che pensa jack a piallo che pensa jack andiamo avanti guardiamo se mi piaceva ma raga però mi state a trappenere no che non fa la te che bello no vai raga vabbè oh risco morirete tutti oh ma ammazzato ma morca vaccalo ma mai ammazzato te ma no no io te stava trasportando no io quanto sono tu ritornerò e qui non serve solo a superare i precipizi non me ne frega niente da vinci parla troppo no 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 devi aggrapparti e andai giù come si sceglie che caso quello di sotto in caso di qualsiasi di una prova devi tenere provo r1 e andai giù è una prova non si apri cercate di non morire wow c'è tutto non morirà non morirà non morirà proprio l'apesco via prodotto il culo ok se prendi ma il m il tutto il pollo Eccolo! Mi stanno portando il disco! No fermi! Guarda il file che sta facendo! Folle! Folle! Comunque cambiammi i colori del personaggio Perchè sembra così sotto il tuo cuore Guarda io che ti abbia vincente per chi Questa è la musica del disco Balla davanti alla telecamera Ok C'è un lato dentro casa C'è qualcuno! C'è qualcuno! Sono le milioni di anni luce Le undici e venti Allora non so se c'è mia sorella di Loki Non hai amici? No Non hai amici? Non hai amici? Ricordate ragazzi che la pazienza è una santa virtù Poi muori! Perchè la gente sclera sul suo caricamento!